Io 2016, forza agosta, a questo metro qui, vediamo un po', allora, vediamo eh, c'è la prima antenna, eccola là, ultraliccio, ecco qua, guardate un po' che tempo è, ecco, come si può notare, verso la, ecco, tosta quel dito lì, diciamo che non si sa se è un uvifragio, o tempo cattivo, o pioggia, non si sa che cazzarola di tempo è, visto che forza agosta, come si dice, là dovrebbe essere San Nano, dovrebbe essere San Nano, però San Nano sta un po' più qua, più là, è lì, Non si capisce se dovrebbe nevicare, piove, e diciamo che sia un maltempo montagnoso, maltempo montagnoso, anche questa parola spero che sarà nel vocabolario, montagnoso, se vedete là, col dito, lì c'è il maltempo montagnoso, nonostante che stiamo a 150 metri sopra il livello del mare, stiamo vedendo bene le montagne, bello eh, bellissimo tempo eh, bello, non si sa se prende, o cambia direzione, oppure, non si sa, che vuole da fare? se lo vedete bene il tempo là, si vede bene il maltempo non si sa né nevica, pioggia, che sia così andando questo è il nostro panorama sforza costese asfattori, cemento, piante, muri, asfalto, mattonelle nuvole a più non possono bello eh bello, bello molto montagnoso, bello lo spettacolo, la natura non finisce mai, non si sa, guarda un po' che tempo, wow bello, bello bello, bello andando, vediamo col Buccaro qui, 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 là sopra la montagna, questo è col Buccaro se dovete vedere appena appena un po' di rialzato di un pisaglia appena appena la vediamo belle nuvole, belle nuvole buonanze 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 la benchina la benchina bello, bello, bello bello buonanze